Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta dopo diversi tentativi, riusciamo a fare partire questa registrazione, pare che qualcuno sia contro di noi. Oggi finalmente abbiamo il nostro invitato speciale atteso, attesissimo, e cioè... Il nostro insopportabile, bravo bambino. Esatto, finalmente la stavate aspettando, la stavate desiderando e stasera ce l'avrete. Stasera, stamattina, insomma, quando state ascoltando. Intanto, sigla. A 2 a 2, il podcast degli uomini liberi. Ti ricordo che questo podcast è interamente finanziato da te grazie a un crowdfunding di Provvidenza. Trovi il link in descrizione per sostenere queste e altre storie di speranza per chiunque possa avere bisogno di ascoltarle. Io ti sento, ma non puoi darmi problemi. Ciao ragazzi, bentornati da 2 a 2, il podcast degli uomini liberi. Siamo freschi freschi, si fa per dire, perché sono le dieci di sera in questo momento che stiamo registrando. Siamo abbastanza devastati, ma ce la faremo. E soprattutto siamo reduci dal lago di Comics, perché la settimana scorsa avete sentito la puntata che abbiamo registrato ancora nel corso della manifestazione. E dopo due giorni stiamo registrando quella nuova. Io nel frattempo sono tornato in Sicilia e Gaetano ha il suo lavoro che non è per niente leggero. Per cui, come sempre, siamo stracotti, ma ce la faremo. E soprattutto siamo gasatissimi, perché, vabbè, al di là dell'esperienza bellissima della fiera e dell'incontro con i ragazzi di Nuovo Orizzonti, che salutiamo e che siamo sicuri adesso ci seguiranno sempre, scherzi a parte, finalmente siamo felici di affrontare questo carissimo tema che in tanti ci avete chiesto, no Gaetano? Sì, la prima puntata abbiamo fatto un elenco dei sintomi, anche soffermandoci, dando delle breve definizioni. E in realtà tantissimi ci hanno scritto, ci hanno comunque dato dei feedback sul fatto che sentivano molto su di sé questa cosa di essere dei bravi bambini. Io e Giorgio, in primis, siamo... Siamo dei bravi bambini. Dei bravi bambini, o meglio, abbiamo questo problema. Ci piacerebbe dire due ex bravi bambini, in realtà ancora no. Abbiamo provato diverse volte a uccidere il nostro bravo bambino. No, ma diciamo che, povero, nessuna parte di noi va uccisa, semplicemente va, come dire, rassicurata. No, anche che poi ritornano come gli zombie. Che belle immagini. Ecco, ogni tanto io ci ho pensato a questo bravo bambino che si rialza, tipo con la facciata cadavere. No, no, poveri, nessuna parte... Adesso scherzi a parte perché in realtà il bravo bambino potrebbe evocare in qualche modo il concetto di bambino interiore, no? Che è il nostro bambino ferito che richiede attenzione, che a volte riemerge quando succedono delle cose nel presente che ci feriscono e prende il controllo e fa grandi casini. Ci verrebbe da volerlo picchiare a sangue, ma la verità è che questa parte di noi e anche il bravo bambino in qualche modo sono tutti meccanismi di difesa che cercano di proteggerci dal dolore, dal rifiuto, da diverse cose. Adesso magari lo vedremo un attimino nel dettaglio in questo caso. E non sono parti nemiche, sono solo disfunzionali, quindi essendo proprio delle parti bambine hanno bisogno di essere accolte e rassicurate perché non siano loro a prendere il controllo. Ma finché le vedremo come dei nemici in realtà sarà come un combattere contro noi stessi e questo non ci fa mai del bene, ecco. Però sì, effettivamente riemergono, a volte ritornano, ecco, diciamo che ritornano spesso. Eh, dicevi, Gai? Ok, no, scusami, mi sono lasciato andare a questa battuta, ma sì, Giorgio ha ragione, nessuna parte di noi va uccisa. Però dobbiamo sicuramente conoscere questa... cioè abbiamo dato per scontato che non siamo soli io e Giorgio, dato che tanti di voi ci avete anche detto che vi ha colpito questa cosa, alcuni ci hanno chiesto anche una puntata. Siamo qui a parlarne e innanzitutto a dire chi è questo bravo bambino. Prima di dirvi quali sono le caratteristiche del bravo bambino, volevo dire due parole sul fatto che la nostra speranza era di arrivare prima dell'estate, o comunque prima della pausa estiva, a chiudere i cinque ambiti di sfida, che ricordiamo sono le sfide con noi stessi, con gli altri uomini, con Dio, con la famiglia e con le donne. Probabilmente non riusciremo a farlo perché la puntata con gli amici di Nuovi Orizzonti andava assolutamente fatta, è stata bellissima, i ritorni che stiamo avendo sono tutti molto positivi e in realtà erano inerenti moltissimo anche alle ferite e alle sfide legate alla famiglia, ma appunto fare una puntata apposta sul bravo bambino fa sì che non arriviamo a chiudere questo ciclo, ecco, prima dell'estate. Ma tanto di argomenti ce ne saranno tanti, di materiale per lavorare su di noi ce l'avremo per tutta l'estate. Diciamo semplicemente che questa puntata sul bravo bambino introduce il tema delle ferite familiari e delle sfide legate alla famiglia, perché questo bravo bambino appunto nasce in questo contesto, nasce tantissimo, come tutte le cose diciamo disfunzionali che ci portiamo dentro, spessissimo, non sempre ovviamente, però hanno una prima matrice, ma non mai unica perché noi siamo fatti di tante esperienze nell'ambito familiare e quindi sfruttiamo questa occasione per iniziare a introdurre questo argomento che comunque concluderemo sicuramente dopo l'estate. Ok, quindi guys, scusami, ti ho interrotto per l'identikit del bravo bambino, scusateci se sembreremo un pochino confusi in questa puntata, ma appunto avendo avuto tanti eventi ravvicinati siamo arrivati stasera tra mille altre cose, quindi stiamo mettendo insieme un po' gli appunti presi di qua e di là, ma proprio per il fatto che siamo dei bravi bambini, come dicevamo, recidivi, una delle sfide più comuni, più semplici che può fare un bravo bambino su se stesso è quella di fare le cose anche quando non sono perfette. Esatto, perché il perfezionismo è una delle caratteristiche di questi bravi bambini. Esatto, quindi noi non siamo perfetti, speriamo che alla fine venga fuori un identikit chiaro. E allora, diciamo un po' di punti così veloci. Sei un bravo bambino se... Ah, parentesi, ovviamente non devi avere tutte queste caratteristiche, però se già ne hai un po', diciamo, inizia a preoccuparti. Quindi, sei un bravo bambino se... Non dici mai di no, non dici parolacce, non trasgredisci mai le regole, pur di apparire perfetto, menti. Sei un bravo chiarichetto di chiesa. Questa è la mia personale accenna. Giorgio, ovviamente l'eccezione è confermare le regole, perché è un bravo bambino senza essere stato chiarichetto, lo ricordiamo. Esatto, e sei un bravo bambino se ancora, hai bisogno che ti si dica sempre di sì. Non parli direttamente, ma ti lamenti spesso alle spalle. Hai bisogno di essere guardato, di essere visto, di essere riconosciuto. Giudichi tutti perché però non perdoni te stesso. Sei rigido. Sei un bravo bambino se non litighi, però coltivi tanta rabbia passiva. Si potrebbero aggiungere tantissime altre cose. A me ha colpito che noi adesso, diciamo, vi stiamo condividendo la nostra esperienza innanzitutto diretta, ma anche quella che abbiamo visto in tantissimi dei ragazzi che hanno camminato con noi e anche in tanti di quelli che mi chiedono personalmente aiuto, ma ultimamente anche a Gaetano, è proprio una sindrome diffusa, tant'è che tanti ce l'hanno chiesta. Ma Gaetano è riuscito a trovare un sito in America dove a quanto pare questa cosa la stanno affrontando in un modo insomma programmatico e organico, no Gaetano? Sì, assolutamente. In America da questo punto di vista sono un po' più liberi e anche un po' più avanti perché da noi, ad esempio in un ambito psicologico, non si parla, quasi nessuno parla di questa sindrome del bravo bambino o del bravo ragazzo. Mentre in America c'è un psicoterapeuta che si chiama Robert Glover che ha scritto un libro, No More Mr. Nice Guy. Possiamo tradurre basta più bravi ragazzi, basta più mister, un signor bravo ragazzo. E c'è un sito, tra l'altro, il libro non è disponibile in italiano, ma c'è un sito, nomormisterniceguy.com dove ci sono tutti i contenuti, come dire, aggiuntivi del libro, c'è il blog dell'autore, ci sono delle testimonianze e anche dei gruppi di autoaiuto. Cioè capite, sono arrivati a pensare a dei gruppi di autoaiuto per bravi bambini per farvi capire quanto questo è un problema reale. Cioè come gli alcolisti anonimi ci sono i gruppi di bravi bambini anonimi. Ecco, vai avanti. Sì, sì, no, ma guarda che mentre cercavo cose appunto su internet mi sono anche imbattuto su dei siti di psicologia, tra virgolette, psicologia un po' spicciola, da quattro soldi, credo gestito da qualche femminista, no? Che citava questo libro, no? E diceva che in realtà non è vera questa cosa, che questo è frutto del maschilismo. Ma certo, sempre, no? Ti giuro, c'è proprio un articolo che comunque cita questo libro in italiano e dice ma esiste veramente la sindrome del bravo bambino? È un libro anche un po' di esperienziale dal punto di vista dello psicoterapeuta perché ci sono anche tanti casi come succede spesso quando uno psicoterapeuta affronta un problema e poi magari appunto scrive un saggio, un libro. Ecco, una delle cose che mi ha colpito di più è la descrizione che all'inizio del libro l'autore traccia appunto l'identikit del bravo bambino che volevamo leggervi. I bravi bambini o bravi ragazzi sono preoccupati di essere visti bene e di fare ciò che è giusto, tra virgolette. Loro sono più felici quando stanno facendo felici gli altri. I bravi ragazzi evitano i conflitti come la peste e fanno di tutto per evitare di disturbare qualcuno. In generale i bravi ragazzi sono pacifici e generosi. Sono particolarmente preoccupati a compiacere le donne ed essere visti diversi dagli altri uomini. In poche parole i bravi ragazzi credono che se saranno buoni daranno agli altri. In cambio saranno felici amati e rispettati. Suona troppo bello per essere vero? Sì, ovviamente sì perché come dicevamo prima tutto questo è una maschera. Il problema è questo. Esatto, il problema del bravo bambino è questo che ci siamo pioppati questa maschera ci siamo costruiti questa maschera fatta di tutti questi comportamenti che in primis non sono autentici non sono quello che vogliamo noi non sono quello che riguarda la nostra felicità ma quello che noi pensiamo possa fare felici gli altri per stare bene noi. Esatto, perché il bravo bambino ha una radice legata alle ferite familiari come dicevamo io avevo provato a mettere a sintetizzare il meccanismo diciamo logico inconscio che porta tutti quelli affetti da questa sindrome a costruirsi questa immagine perfetta di sé. Poi vedremo anche che conseguenze ha questo sulla persona prima poi di arrivare ovviamente alle sfide che sono la cosa che più ci interessano cioè come combattere questo bravo bambino come non farsi dominare quantomeno da lui. Allora, cosa c'è dietro alla questione del bravo bambino? come dietro a tutte le cose che noi facciamo a tutti i comportamenti disfunzionali le dipendenze tutti quei sintomi che abbiamo elencato nella prima puntata una falsa verità su di noi che abbiamo interiorizzato spessissimo in ambito familiare ok? Come dicevamo per questo il bravo bambino introduce bene la questione delle delle sfide legate alla famiglia perché è un'immagine che ci è stata calata in qualche modo e alla quale noi abbiamo corrisposto per qualche ragione sono diversissime le motivazioni ci può essere il padre duro severo che non sa manifestare l'affetto che ti premi e ti riconosce solo quando fai delle cose buone che invece è molto duro quando non raggiungi il successo e non fai quello che dovresti fare ma la stessa cosa potrebbe farla la madre oppure potresti avere comunque un contesto scolastico in cui viene premiato soltanto il merito e non ci sono riconoscimenti gratuiti dati a te come persona non ricevi l'affetto possono essere tante le ragioni sta di fatto che in qualche modo a volte abusi ferite mancanze insomma abbiamo interiorizzato questa falsa idea su di noi e cioè io non sono degno di amore gratuito questo cosa implica un'altra da questa falsa verità su di noi io non sono degno di amore gratuito deriva un'altra falsa verità cioè l'amore si merita e anzi forse è l'incontrario l'amore si merita e io non sono degno di ricevere qualcosa di un amore che è gratuito e allora che cosa devo fare per poter avere amore devo essere bravo se farò il bravo tutti mi vorranno bene e se tutti mi vorranno bene questo mi restituirà il valore che io non ritengo di avere quindi questo è un po' l'iter di falsità che stanno dietro a questo tipo di comportamenti ovviamente sono tutte cose inconsce noi abbiamo interiorizzato che questo è il modo giusto di comportarsi perché come dicevamo questi sono meccanismi di difesa tutte le cose tutti i comportamenti disfunzionali che noi agiamo nascono da parti di noi che sono state ferite che stanno cercando di proteggerci dal dolore in questo caso dal dolore di non sentirci amati per qualche ragione se non abbiamo mai ricevuto un abbraccio gratuito ma ci veniva detto bravo solo se prendevamo 10 per esempio io con i ragazzi l'ho visto tante volte ragazzini che prendono 7 e si disperano perché a casa se non hai il 10 non va di nulla ma anche ragazzini bravissimi che non vengono mai rinforzati nella loro autostima se non in funzione di quello che producono e questa cosa succede spesso è un comportamento che arriva da parte del padre ma anche da parte della madre ma può arrivare da parte degli insegnanti in ogni caso sono cose molto banali che piano piano ci insegnano questo oppure non lo so vivi in un contesto di particolare sofferenza e fatica c'è in casa un malessere magari hai un fratello malato una persona che attira l'attenzione più di te che ha bisogno più di te e quindi capisci che è importante che tu non debba dare fastidio a nessuno perché c'è un problema più grave a cui pensare in casa quindi è bene che tu stia tranquillo è bene che tu sia responsabile è bene che tu ti occupi di fare quello che non attira l'attenzione perché già mamma e papà sono impegnati in altro e quindi impari che le tue esigenze ciò che tu desideri ciò che vuoi deve essere messo da parte perché è una questione di sopravvivenza perché se no in famiglia non ci sono energie abbastanza per fare questo cioè i motivi veramente possono essere tanti e qui non stiamo dando colpe a nessuno non vogliamo dare le colpe a nessuno non si tratta di capire chi è il colpevole in casa questo in generale con le sfide legate all'ambito familiare per quanto ci siano delle persone che ci hanno fatto male in famiglia al 90% i nostri genitori ma anche i nostri fratelli eccetera non volevano farlo ok però sta di fatto che da questa maschera che noi ci siamo costruiti ci dobbiamo liberare perché dietro alla maschera del bravo bambino c'è un lato oscuro e questo lato oscuro ci danneggia molto di più ci danneggia molto di più di quanto potremmo pensare nelle relazioni con gli altri sì un lato oscuro che appunto contraddice un po' il termine di bravo ragazzo inteso molto spesso in senso di un ragazzo buono un ragazzo che magari non apparentemente non lo so non si droga fa sempre successi appunto nella vita scolastica lavorativa eccetera perché questa è un'altra caratteristica tra l'altro proprio per tutto questo discorso della maschera e del desiderio di fare tutto perfetto per compiacere gli altri molto spesso i bravi ragazzi sono persone affermate che hanno ottenuto un discreto successo nella vita scolastica lavorativa eccetera il lato oscuro come diceva Giorgio riprendendo un po' quello che dice il dottor Grover sono delle cose che a me hanno colpito molto e così anche a Giorgio in realtà i bravi ragazzi sono disonesti hanno dei segreti sono manipolatori già queste tre cose sono abbastanza abbastanza dure senza voler come dire cadere in in toni moralistici ci dicono tanto un'altra cosa è la fatica a dire no a mettere dei confini la fatica a dire questa cosa non la voglio fare oppure io me ne vado perché qui non sto bene è proprio perché siccome non vogliono fare questo perché non vogliono dispiacere le altre persone molto spesso la manipolazione che consiste anche in questo che costruiscono tutto per far magari dirlo all'altro il no per far annullare all'altro quell'impegno per fare una cosa diversa eccetera cioè esatto siccome io non posso affrontare non posso esprimere le mie quello che desidero ma c'è una parte di me che ovviamente deve essere ascoltata allora come faccio ad ascoltare il mio bisogno faccio in modo che l'altro ci arrivi per me in sostanza però questo diventa manipolazione diventa un modo per usare l'altra persona esatto ed è anche uno dei motivi per cui molto spesso i bravi bambini che ha questa sindrome e molto spesso è una persona isolata nel senso che nonostante il desiderio più profondo che porti a costruire questa maschera sia quello di sentirsi amati sentirsi apprezzati questi comportamenti quindi il fatto di non essere sinceri diretti di essere manipolatori oggettivamente rendono molto più difficile le relazioni con le persone tanto che le altre persone se arrivano a comprendere o a percepire queste cose possono anche allontanare il bravo ragazzo ma comunque anche se non dovessero arrivare a capire che il bravo bambino diciamo li sta manipolando il problema è innanzitutto per chi vive questa sindrome perché non si permette di fatto di vivere una relazione di amore libera al di là qua si parla di amore in senso ampio che siano amici che siano relazioni di coppia non c'è non c'è differenza si coltivano segreti perché se tu hai bisogno che tutti dicano che sei bravo non puoi mai mostrare le parti peggiori di te e quindi sei compresso in qualche modo fa innamorare gli altri di una versione edulcorata di te stesso tutto questo genera tantissima rabbia ovviamente frustrazione fa ricadere nelle dipendenze non mostrandoti in verità questo l'abbiamo già detto anche rispetto ad altre cose di fatto non ci permettiamo neanche di essere amati perché dentro di noi noi sappiamo che l'altro non ci conosce fino in fondo e quindi non possiamo essere sicuri che ci vorrebbe bene anche se sapesse le parti di noi che sono spiacevoli questa sindrome in ambito soprattutto cristiano ha delle derive tremende perché una certa parte del mondo cattolico purtroppo da diverse decine d'anni ha iniziato a far passare questa immagine di un dio smidollato ne abbiamo parlato nella puntata delle sfide con Dio e di un'idea del cristiano smidollato di conseguenza di quello che deve essere bravino buonino non dare mai fastidio eccetera e tutta anche la parte di donazione di carità di servizio si mette perfettamente a servizio del bravo bambino cioè si allinea perfettamente con questa esigenza i bravi bambini spesso sono gente che fa tutto per tutti e magari fanno anche cose bellissime fanno tanto bene effettivamente ma il loro cuore è avvelenato dal fatto che tutto quello che fanno lo fanno perché hanno un bisogno disperato che gli si dica complimenti vorrei tanto essere come te ma come fai a fare questa cosa e se non arriva quel riconoscimento è un dramma cioè non godono del bene che stanno facendo per il bene che stanno facendo ma del fatto che gli altri lo sappiano e ripeto non è una questione moralistica non stiamo parlando dei farisei che vogliono essere applauditi è proprio spesso una roba molto sottile e lo si vede subito perché quando quel riconoscimento non arriva scatta una rabbia tremenda no? Sì è proprio così tra l'altro la mia esperienza mi porta anche a dire un'altra cosa mi fa un po' sorridere cioè che è un meccanismo che può essere talmente infiltrato e talmente nascosto nel comportamento che poi questa maschera non la si vede no? ce la appiccichiamo talmente bene addosso che sembra che faccia parte proprio della nostra persona i bravi bambini sono abilissimi a fare questa cosa a me ad esempio a volte capita soprattutto nei contesti di chiesa magari la classica signora del gruppo di preghiera eccetera ma Gaetano sei un bravo ragazzo veramente mia figlia se io potessi lei potessi avere un ragazzo come te noi siamo gli idoli delle mamme sì è vero questa cosa questa cosa ma tra l'altro che ne sono un po' più consapevole quando perché purtroppo capita ancora oggi quando capita una cosa del genere io c'è immediatamente c'è quella persona non se ne rende conto ma mi sta facendo da specchio cioè mi sta facendo vedere la mia maschera e io dico cavolo ho sbagliato qualcosa con questa qua cioè no con questa persona magari in quel contesto sicuramente ho azionato alcuni meccanismi perché non perché devo essere per forza cattivo o altro però quando è eccessiva questa descrizione che viene fatta dall'altra persona quasi idealizzata comunque c'è qualcosa qualcosa che non va ma a me succede molto spesso questo ecco che l'altro purtroppo anche inconsapevolmente però mi può aiutare questa cosa mi è da specchio in questa cosa e proprio quando utilizza la parola bravo ragazzo a me mi viene un brivido praticamente sapendo queste cose e quindi cerco come dire di lavorarci su invece io mentre leggevo le caratteristiche del bravo ragazzo appunto che aveva trovato Gaetano su questo blog mi hanno sconcertato alcuni elementi perché appunto come abbiamo detto anche io lo sono e per esempio vi racconto banalmente nella puntata scorsa ma forse l'avevo detto anche prima che i ragazzi di Nuovi Orizzonti la comunità di Nuovi Orizzonti ci ha aiutato tanto e Gaetano lo sa io ho passato giorni con un senso di colpa devastante perché avevo fatto arrivare mille scatole in comunità da loro e talmente era radicata dentro di me l'idea di non essermi meritato in alcun modo questo aiuto perché non c'era un rapporto una relazione ancora con queste persone perché io frequento la comunità di Milano ma non conosco non conoscevo quelli di Como io non mi meritavo questo aiuto e quindi mi muovevo con la sensazione che devo fare tutto per bene perché se no questi si mentiranno di starmi aiutando quindi quando ho poi scoperto che erano arrivate troppe scatole poi troppe erano arrivate tante scatole che poi sarebbe arrivata la macchina cioè io ho vissuto costantemente con un senso di colpa assolutamente mio costruito su niente che mi arrivasse da fuori perché un bravo bambino non è libero di sbagliare ammesso che io stessi sbagliando in quel caso cosa che non era però dico in generale è veramente una prigione questa cosa qui e penso che non si spiegherebbe altrimenti perché ce l'hanno chiesto in tanti di parlare di questo questo volere essere bravi anche nel mondo cristiano c'è anche una certa tendenza a cercare persone da aiutare perché il bravo bambino deve alimentare questo ruolo di santo di salvatore eccetera e quindi vai a cercare i casi umani potremmo dire che è collegato un po' alla sindrome del croce rossino in ambito magari di relazione di coppia ecco e nell'elenco delle cose che venivano dette c'è scritta questa cosa perché i ragazzi hanno spesso problemi nelle relazioni intime sono spesso ascoltatori terribili perché sono troppo impegnati a cercare di capire come difendersi o risolvere il problema della persona a causa della loro paura del conflitto sono spesso disonesti questo l'abbiamo detto raramente sono disponibili a lavorare per tutto il percorso attraverso un problema cioè nel senso se c'è un contrasto con qualcuno cercano di sviarlo di svicolarlo di assecondarlo ma non di starci veramente anche quando magari gli vengono messi piedi in testa stanno subendo un'ingiustizia e questa cosa non è insolito per i brevi ragazzi formare rapporti con partner che credono essere diamanti grezzi cioè io ti libererò io ti mostrerò il meglio di te eccetera perché in questo sentirò di essere migliore io di te ti ho perso ok scusami ti avevo perso di nuovo quando questi progetti non soddisfano le loro aspettative i brevi ragazzi tendono ad incolpare il proprio partner per la loro infelicità e se non bastasse questo i brevi ragazzi hanno problemi con la sessualità sì questa è una cosa su cui diciamo il dottor Glover si sofferma tantissimo perché dice che non ha mai incontrato un paziente che avesse questa sindrome del del bravo ragazzo che non avesse problemi sulla sessualità e questo al di là dello stato di vita anzi molto spesso io ho letto qualche caso così nel libro parla di uomini sposati che vivono una vita sessuale con la propria moglie veramente insoddisfacente oppure hanno problemi di disfunzione rettile oppure di eicolazione precoce e addirittura molto spesso poi andiamo poi nel mondo per compensare ovviamente questa insoddisfazione nella vita sessuale è molto facile che un bravo ragazzo entri nel mondo della masturbazione compulsiva della pornografia e anche della prostituzione esatto quindi vedete come dietro questa maschera di perfezione c'è il devasto diciamo così l'ultima cosa che a me ha molto colpito è questa che dice che i bravi ragazzi di solito hanno un successo relativo cioè in questo blog a cui fa riferimento Gaetano si dice che spesso i bravi ragazzi sono persone di talento sono intelligenti hanno successo eccetera ma la maggior parte di loro non riesce a vivere pienamente il proprio potenziale cioè come se non fiorisse appieno ecco io penso che questa cosa dipenda anche qui tanto parlo veramente di me io io so che da fuori per esempio quello che faccio le tante cose che faccio vengono viste tanto con ammirazione dagli altri e effettivamente ogni tanto quando io mi soffermo sul podcast il video i libri le cose dico beh effettivamente non è indifferente quello che costruisco quello che non costruisco ma quando il bravo bambino che in me rinasce cosa succede che per esempio io faccio un post e invece di godermi il fatto che ho condiviso qualcosa che secondo me è di valore bello e che può fare bene agli altri cadono la tentazione di vedere magari le visualizzazioni cioè i ritorni immediati di quella cosa lì e siccome il bravo bambino fa una cosa buona perché in parte vuole essere riconosciuto in quella cosa lì ovviamente nella dinamica dei social questa cosa diventa potentissima e violentissima per cui se non hai i like quello che hai fatto non esiste che numero uno è falso perché in realtà potrebbero vederla un sacco di persone senza mettere nessun tipo di like e in ogni caso non è detto che un like significhi avere toccato una persona numero due in termini anche di se volete anche di fede in un'ottica cristiana non è importante quante persone tu tocchi o a quante persone tu fai bene perché basta che tu abbia fatto bene a una persona sola e quella è una vita in più che hai toccato cioè il signore non ragiona sui numeri ragiona sulla qualità lui vuole salvare tutti ma tutti in maniera personale quindi ogni singola persona che tu puoi aiutare nella tua vita è importante e questo anche per ribaltare quello che magari tante delle persone che ascoltano potrebbero pensare rispetto alla propria vita al di là della questione del bravo bambino non ho fatto abbastanza non sono abbastanza la mia vita non conta per nessuno se già hai fatto qualcosa di buono per una singola persona nella giornata di oggi hai già fatto qualcosa di importante non serve muovere le masse però quando tu hai questo bravo bambino che prende il controllo lui ti toglie il gusto di quello che stai vivendo perché lo fa dipendere dal riconoscimento degli altri e in questo ricercare il riconoscimento degli altri ti toglie potenza ti toglie forza cioè io mi rendo conto che le volte che mi sono soffermato sul fare qualcosa col pensiero di compiacere o non compiacere qualcun altro ho perso tanta energia togliendola al fatto di fare quella cosa con passione sì esatto e facendola peggio poi di come l'avresti potuto fare esatto e quindi poi effettivamente il risultato qual è che ottieni meno riscontro e quindi si innesca un circolo vizioso penso che dipenda anche da questo allora credo che abbiamo fatto una panoramica sufficiente per spiegare quanto sia grave sì sì assolutamente io riprendo un po' quello che diceva Giorgio di quanto è radicata questa deriva purtroppo nelle nostre comunità cristiane no dell'esserci convinti che un cristiano in un certo senso deve essere un bravo ragazzo no questa cosa è un'assolutamente una cosa che va smontata perché alla base di tutto questo come ormai dovrebbe essere chiaro non c'è nulla che ha a che fare con il cristianesimo e magari per dare qualche altro spunto perché dato che si avvicina ora l'estate se qualcuno ha voglia di leggere c'è un libro di Roberto Marchesini che è uno psicoterapeuta che si chiama Quello che gli uomini non dicono parla un po' della crisi della virilità e ha un capitolo nel libro dove parla proprio di questo mi pare che si chiami il titolo il cristianesimo non è un roba da bravi ragazzi proprio va a delineare tra l'altro usando Gesù insomma Gesù non era assolutamente ovviamente un bravo ragazzo ecco nonostante l'immagine edulcorata forse anche un po' no rammullita eccetera che viene in alcuni contesti delineata è tutt'altro così il cristianesimo è roba da uomini veri e non da bravi bambini esatto vi leggo qualche citazione di questo libro che veramente ha fatto bene a tantissima gente perché innanzitutto è un libricino si può leggere velocemente e fa confermo io l'ho letto durante le ferie le ferie estive di qualche anno esatto non ha letto i miei libri ma questo l'ha letto quindi si può leggere velocemente detto questo no vabbè se dovete se fate fatica a leggere dovete scegliere ci sono le ferie di quest'anno per te Giorgio sto conservando il meglio certo no se dovete scegliere tra leggere un mio libro e leggere un libro un libro di questi e fate fatica a leggere leggete un libro di questi perché è più importante la vostra vita che leggere un mio romanzo però ecco vi dico un libricino semplice molto chiaro e netto nella prima parte tra l'altro fa un'introduzione molto lucida di come nell'ultimo secolo è stata demolita la figura maschile dalla cultura occidentale proprio vedendo una serie di radici culturali anche all'interno della chiesa ed è molto interessante nella seconda parte da tanti spunti pratici che vedrete sono abbastanza allineati con quello che stiamo proponendo con il podcast e nella mia esperienza le persone abbastanza determinate nel porsi un obiettivo e portarlo a termine già soltanto seguendo i consigli di questo libro spesso riescono ad avere dei risultati non indifferenti però la parte che io veramente amo di questo testo è proprio la parte su Gesù e per dirvi due citazioni il problema è che la religione pretende coraggio decisione autonomia di giudizio in altre parole e roba per veri uomini quello che diceva Gaetano poi elenca una serie di cose il bravo bambino sta alla larga dei conflitti invece Gesù ha detto non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra non sono venuto a portare pace ma una spada ho fatto un video su questo sulla rabbia andatelo a vedere perché veramente questa è una di quelle cose che appunto mi fa arrabbiare tantissimo l'idea che non ci si possa arrabbiare l'abbiamo già detto Gesù viveva tutte le emozioni Gesù viveva anche la rabbia il bravo bambino ama il dialogo che in realtà non è vero perché come abbiamo detto un dialogo vero è un dialogo nel quale tu vuoi parlare direttamente ma diciamo ama parlare di dialogo potremmo dire così cioè di una forma di comunicazione pacifista che però va a discapito della verità e questa cosa mi ha colpito tantissimo questo che dice Marchesini questa parola dialogo non c'è nella Bibbia nel Vangelo e nemmeno nella Bibbia e viene mai nominata la parola dialogo il bravo bambino è moderato Gesù decisamente no il bravo bambino non usa il sarcasmo per timore di ferire l'altro Gesù lo usava e come guardatevi i dialoghi tra Gesù e Nicodemo di San Giovanni ma sono tantissimi anche tra Gesù e i farisei eccetera Gesù ha detto di porgere l'altra guancia questo vabbè andrebbe approfondito questa questione del porgere l'altra guancia abbiamo detto qualcosa nella puntata sulle sfide con Dio anche quando Gesù si consegna e viene schiaffeggiato anche in quel caso lì è vero che Gesù non reagisce schiaffeggiando a sua volta la guardia nel sinedrio però gli dice se ho fatto un torto team qual è il torto altrimenti perché mi percuoti cioè non è passivo si pone da uomo si pone in contrasto di fatto un contrasto che è verbale ma un contrasto una delle altre cose che mi ha colpito è che bravo bambino non è sinonimo di buono perché il bravo bambino è gradevole passivo innocuo carino mentre chi è buono è attivo non è passivo è giusto e ciò che è giusto non è sempre gradevole insomma questo per anticiparvi qualche cosa ma ci sono tanti altri spunti e sicuramente una delle sfide personali per combattere questo atteggiamento del bravo bambino è fare riferimento anche per chi non è cristiano alla figura maschile virile di Gesù Cristo che siate cristiani o no credenti o no questa è una figura con le palle ok diciamocelo ma nel senso proprio più ampio del termine dove nulla è stato risparmiato nulla è stato risparmiato e quindi tutto è autorizzato in qualche modo dell'essere uomo e tutte queste componenti che noi ci siamo dimenticati che vengono colpevolizzate e che i bravi bambini vivono con terrore il terrore di sentire la rabbia il terrore di scontrarsi il terrore ma che poi vanno a scoppiare da altre parti tutte queste cose sono autorizzate da Gesù perché le viveva lui stesso in primis quindi si possono vivere e vale la pena insomma farsi insegnare da lui come fare chiarito quindi che a parte me e Giorgio penso ci sono tanti altri bravi bambini in questo in questo mondo vediamo un pochettino che cosa può fare uno che si rende conto che ha questi problemi e vuole affrontarli vuole un po' lavorare su di sé sicuramente si può porre delle sfide nel nostro sistema di sfide giornaliere tu hai pensato qualche sfida? sì io personalmente una delle cose che per me a me sono state più utili ovviamente bisogna vedere noi abbiamo elencato tante cose magari come diceva Giorgio uno non è detto che ce le abbia tutte però io sono una persona che fa un'enorme fatica a dire di no ecco quindi quando mi viene chiesto qualcosa quando c'è diciamo da mettersi a disposizione per fare qualcosa soprattutto se riconosco che sono cose diciamo all'interno della chiesa ecco mettiamola così io una delle sfide mi ricordo che mi sono posto e che mi continuo a porre oggi è imparare a dire di no e oggi anziché magari rinviare perché un'altra cosa che faccio spesso è per non dire di no appunto rinvio anche il dire di sì e quindi non do risposte fondamentalmente una delle sfide concrete è calarsi nel contesto in cui viviamo e imparare a dire no quindi mi hanno chiesto di andare a suonare non lo so alla messa della madonna di che non so che cosa bellissimo per carità ma siccome magari io sono stanco io non ho voglia di fare quella cosa imparo a dire di no e lo dico subito questa è una delle sfide che io ricordo quando abbiamo fatto il cammino con i combattenti mi mettevo periodicamente ecco questa cosa di dire di no esatto anche io nell'elenco delle sfide che avevo segnato le sfide possibili per il bravo bambino avevo messo al primo posto questo impara a dire di no e poi avevo messo al capo alla famiglia e alla comunità nel senso che può sembrare egoistico ovviamente non dovete dire di no a tutti incondizionalmente perché se no ecco bravissimo adesso mi è venuto in mente attenzione che il bravo bambino ha un'altra faccia che sembra antitetica ma in realtà spesso si oscilla da un opposto all'altro che è il bambino ribelle il bambino ribelle è semplicemente un bravo bambino senza maschera è un bambino che non sa stare mai alle regole è un bambino che si scontra sempre è un bambino che dice tutto quello che gli passa per la testa senza considerare quando è il caso di dirlo e quando no quando può essere utile e quando no cioè non è prudente per niente è sconsiderato è inaffidabile in realtà è disfunzionale tanto quanto solo che è compresso perché i bravi bambini nascono dicevamo da un contesto familiare dove magari ti è stato insegnato che devi assolutamente seguire le regole perché se no vai all'inferno perché se no non ti meriti l'amore perché se no fai soffrire la mamma perché se no fai arrabbiare il papà perché se no dai un peso in più in un momento di difficoltà che stiamo vivendo eccetera eccetera insomma dobbiamo stare compressi allora c'è chi si comprime 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 e scoppia di nascosto c'è chi invece scoppia subito e basta o c'è chi oscilla tra una cosa e l'altra quindi magari per metà della sua vita fa il bravo bambino poi scoppia definitivamente diventa bambino ribelle e lascia moglie e figli per andare a fare il cretino in discoteca oppure lascia il lavoro e va a fare il nativo digitale là come si dice alle Bahamas senza nulla togliere il fatto che siano scelte cioè in senso potrebbe essere assolutamente una cosa molto sana decidere di uscire dalle dinamiche del mondo del lavoro di oggi e trovare delle alternative ma il punto non è questo il punto è che cosa ci guida non va bene né una cosa né l'altra e bisogna proprio su questo volevo dire una cosa che riguarda un po' anche la mia esperienza come dice Giorgio il punto non è diventare da bravi bambini a bambini ribelli o da bravi ragazzi a cattivi ragazzi però almeno io parlo per me credo poi di aver capito anche un po' con la psicoterapia quando si lavora su alcuni aspetti di sé della crescita personale e si modificano alcuni comportamenti che magari abbiamo avuto fino a quel momento questo rischio c'è quindi è giusto che lo diciamo e io ci sono passato e me lo ricordo bene quando ho cominciato appunto a dire di no magari a dire in maniera più netta come la pensavo magari anche a non evitare il conflitto quindi se c'erano delle cose scomode a dire che so che avrebbero portato magari a una situazione non di rissa ovviamente ma di conflitto mi ricordo ancora di una persona un po' più grande di me che avevo conosciuto nel gruppo di preghiera di un uomo che mi disse quasi scherzando Gaetano ma sei uno stronzo e a me questa cosa ancora me la ricordo perché non me l'abbia detto mai nessuno no cioè ora chiamiamolo bambino ribella a me piace chiamarlo stronzo e lo stronzo è un po' il contrario del proprio bambino ecco il punto non è diventare degli stronzi ovviamente il punto è diventare lo abbiamo detto l'altra volta quando eravamo con i ragazzi non avevo orizzonti ma lo ripetiamo è diventare adulti è diventare uomini maturi è diventare uomini liberi in questa però fase di lavoro su di sé ci può stare che ci siano dei picchi secondo me nel breve termine no il punto il lavoro su di sé è proprio questo no è come il lavoro sulla depressione faccio un altro esempio che magari può aiutare di più a capire cioè ci può essere poi che quando uno magari lavora sulla depressione ha un picco opposto di iperattivismo e di iperattività eccetera ma il punto è con questi sbalzi su e giù su e giù farli diventare sempre meno il lavoro su di sé è proprio questo farli diventare sempre meno sottili fino a quando viene non solo più sbalzi ma è una linea retta in un certo senso che oscilla poco esatto esattamente infatti questa cosa mi fa venire in mente quando Nicolosi parla della terapia riparativa e del fatto che tanti bravi bambini che magari non hanno mai avuto esperienze o che l'hanno sempre vissute con fatica eccetera quando iniziano a fare la terapia riparativa che è ricordiamo non mi ricordo in che puntata ne abbiamo parlato tu ti ricordi? in una delle tre puntate sul numero non me la ricordo sulle amicizie sì come abbiamo parlato di amicizie ah giusto esatto allora omo etero eccetera ok questo mi fa venire in mente quando Nicolosi dice nel suo libro che spesso i pazienti quando iniziano a lavorare in terapia con lui hanno un incremento dell'attività sessuale paradossalmente no? che uno dice ma come sto lavorando sull'omosessualità sulla ferita dell'identità eccetera e va a finire che faccio più sesso sì perché in una fase iniziale e siccome tantissimi che hanno attrazione omosessuale hanno anche la sindrome del bravo bambino è come se iniziassero a riappropriarsi della propria autorità sulla propria vita della propria indipendenza e quindi in questa prima fase hanno bisogno di dire vabbè sì voglio scopare e scopo questi cazzi perché fino a quel momento magari non lo avevano mai fatto ma non perché riconoscevano che era un male in sé ma perché semplicemente lasciarsi andare a questo tipo di cosa sarebbe andato contro l'idea l'immagine interiore che avevano appunto di essere i bravi bimbi che non fanno mai errori o se sei in un abito cristiano che non peccano mai eccetera quindi ci sta che in una prima fase uno diciamo si ribalti dall'altro lato anzi è utile perché se tu veramente per tutta la vita non ti sei mai permesso di fare mezza cosa di ascoltarti mezza cosa avere una fase in cui ti prendi la libertà anche di mandare di fanculizzare tutti quanti diciamo in maniera però oculata non so come dire non perché sei scoppiato ma perché ti rendi conto che bisogna fare un lavoro su quello e quindi ti ribalti all'opposto serve poi a riequilibrare le due fasi e usando un altro esempio ancora quelli che hanno un'iper cura del proprio corpo perché non accettano la possibilità di essere meno che perfetti nell'aspetto e quindi non uscirebbero di casa mai se non si fossero guardati mille volte davanti allo specchio è utile che per un certo periodo di tempo escano di casa senza guardarsi allo specchio senza la barba fatta con i calzini di due colori diversi cioè volutamente trasandati per sperimentare il fatto che non succede niente al contrario chi è sempre trasandato dovrà fare in modo di essere molto curato questo ribaltamento non deve essere fermo è come una terapia d'urto diciamo così che serve poi però a ritrovare la via di me la famosa via di mezzo e anche a ridare la giusta dimensione a tutto cioè anche se uno una volta è stronzo è sti cazzi cioè puoi anche essere stronzo quindi imparare a dire di no è la primissima la primissima diciamo la regola principe per i bravi bambini ok questo è strettamente connesso anche a un altro tema e cioè lo ristabilimento dei confini ok devi ristabilire i confini questa è una sfida che potremmo definire propriamente anche familiare ma ripeto è una cosa che puoi trovarti a fare anche col capo cioè io ho fatto lavori in mille aziende diverse Gaetano lavora pure per un contesto aziendale importante e di fatto tutti sappiamo quanti capi ti promettono Mari e Monti e in virtù di quello si arrogano il diritto di risucchiarti via la vita magari persone che non hanno loro una vita in primis e quindi si aspettano che tu debba dare la vita per il posto di lavoro e agiscono sui sensi di colpa ti fanno ponti d'oro quando sei lì che praticamente non vivi passi la vita in ufficio eccetera ma la prima volta che chiedi un giorno di ferie mezza giornata un'uscita prima eccetera ti fanno sentire una merda no e se tu sei un bravo bambino non ti difenderai mai in questi contesti e ti sembrerà inconsciamente impossibile riprenderti questi spazi allora creare confini sul lavoro per esempio quindi dire di no laddove c'è un diritto io ho fatto le mie otto ore di lavoro perché tu devi dare per scontato che ne debba fare dieci per esempio quanti contesti aziendali dove questo succede no ho in mente non faccio nomi perché sennò magari mi becco qualche denuncia ma insomma posti posti dove so che questa è la regola ma voglio dire sono dinamiche anche sottili o anche quelle aziende familiari dove tu sei una di casa e sì e ti trattiamo come un figlio però poi siamo tutti come figli e va a finire che non ci sono più quei limiti professionali che ci devono essere cioè tu non sei mio padre non sei il mio salvatore mi paghi ma non è che mi stai facendo un favore a pagarmi io sto facendo un lavoro e il mio contratto stabilisce che questi sono i termini per cui lo debba fare per cui non mi puoi fare sentire in colpa perché io me ne vado quando è il tempo che io me ne debba andare per esempio questo sul lavoro ma tanto questo funziona anche in casa in casa i giochi psicologici ne abbiamo parlato nella puntata con i ragazzi di Nuovi Orizzonti veramente è stato un assist da parte loro inaspettato però mi fa capire quanto queste sono problematiche che si vivono molto comuni e sempre di più adesso quante volte i genitori che hanno rapporti disfunzionali tra di loro come coppia riversano sui figli tutta la loro attenzione tendono a tenerli legati a loro perché il problema è che hanno paura del momento in cui resteranno da soli e allora ma che te ne vai fuori di casa senza essere sposato ma te ne vai a vivere lontano e perché ah ma vuoi fare l'università fuori ma no resta qua resta con noi sapete quante persone ho conosciuto con una rabbia repressa proprio passivo-aggressiva palese proprio negli occhi mi raccontavano a 43 anni a 45 anni o anche di più di essersi comprati casa accanto casa dei genitori perché così mamma e papà sono tranquilli così loro sono contenti hanno ottenuto questa cosa però insomma io almeno mi faccio la mia vita mi faccio la mia vita a sto cavolo perché quando tua madre nella porta accanto che può entrare e vedere chi arriva chi non arriva chi c'è chi non c'è c'è ragazzi il sogno di tutte le madri mamma mia sì veramente ecco vorrei spendere due parole visto che siamo nell'ambito comunque delle sfide con la famiglia sulla responsabilità delle ferite inferte dalle madri so che questo non è politicamente corretto diciamo sì oggi perché è il padre il patriarcato il male il cattivo eccetera ma ecco questa è una caratteristica secondo me che riguarda tanti potremmo iniziare a dire che forse i bambini coincidono abbastanza con i feriti dell'identità maschile non con la totalità ma con una buona parte assolutamente ecco spesso hanno molta facilità a vedere la responsabilità delle ferite inferte volontariamente e involontariamente dalla figura paterna ma molto molto più difficilmente sono disponibili a vedere le responsabilità delle ferite inferte dalla figura materna laddove c'è un padre disfunzionale dall'altro lato c'è una madre complementariamente disfunzionale cioè le cose si fanno in due in una coppia e in un matrimonio c'è una coppia innanzitutto quindi può anche darsi che vostro padre sia stato duro sia stato assente sia stato molle quello che volete ma spessissimo dall'altro lato c'è stata una madre che ha rincarato la dose demolendo la figura paterna davanti a voi parlandone male lamentandosene facendo di voi i suoi confidenti magari quando eravate ragazzini cosa che non avreste dovuto essere ritagliando per voi un'intimità assolutamente al di fuori di quello che dovrebbe essere il rapporto madre figlio laddove il padre non può entrare mai usando i figli come scusa per coprire un problema con il marito per cui io non ho più rapporti magari con mio marito per fare dormire mio figlio a letto con me e così rovino il rapporto con l'affettività la sessualità di mio figlio da un lato e rovino il mio rapporto di coppia esatto le mamme soffocanti le mamme che vogliono controllare la vita dei figli le mamme che vogliono il figlio che sia fatto a loro immagine e somiglianza che non li deluda mai che soprattutto non li abbandoni mai perché in maniera inconscia vedono in quel figlio un prolungamento di se stesse un'alternativa al marito con cui non si trovano stanno facendo un danno enorme visto che abbiamo tante donne che ci seguono questo lo dico proprio per tutte le mamme che negli anni mi hanno chiesto consiglio aiuto per i loro figli e che però quando si rendevano conto che per aiutare i figli dovevano mettere mano al loro matrimonio al loro modo di stare nella famiglia al loro fare un passo indietro lasciare spazio lasciare respirare se ne andavano scappavano fuggivano improvvisamente io diventavo satana e il bambino il loro cucciolo che stava diventando psicopatico andava bene così com'era ecco non fate questo errore le madri oggi hanno una responsabilità molto più grande proprio perché la figura maschile è stata talmente eliminata che purtroppo un altro bel risvolto di questa cosa è che potete prendervi la responsabilità totale di tutti i disastri che si fanno in casa e dall'altro lato a voi uomini sposati e padri e che magari siete bravi bambini e bravi ragazzi da uomini sposati e padri ristabilire i confini significa anche questo per il bene dei vostri figli se avete una moglie rompi i coglioni che soffoca che fa che cerca di controllare che ma non perché è cattiva ok perché tante volte le donne lo fanno perché siamo noi che gli lasciamo lo spazio e hanno bisogno di un confine è vostro compito iniziare ad arginare questa energia quanti mariti ho visto arrendersi di fronte alle mogli ansiose no tesoro non andare no mettiti la camicia no però così senti freddo no ma vai non sudare no non arrampicarti e i mariti che come giustamente farebbe qualsiasi uomo no ma lascialo andare ma lascialo correre vabbè ma se cade si rialza eccetera arrendersi di fronte alle ansie della moglie come dire vabbè tanto è lei che decide questo fa male ai vostri figli oltre che rendere voi frustrati perché siete ai mariti frustrati quindi ristabilite i confini di cui non si passa ho 40 anni mamma non mi fai la valigia ho 25 anni mamma non mi ordini la stanza me la ordino io ho 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 40 anni non c'è bisogno che ci sentiamo ogni giorno ecco ecco bravo bravissima esattamente io ho educato i miei genitori che ci sentiamo ogni 4 giorni ecco entrate anche in quest'ottica che i genitori si educano come loro hanno educato voi quando voi eravate i bambini man mano che crescete si ribaltano i ruoli e sono loro che devono essere educati ah ma piangono non capiscono e stanno male nell'ansia non è un problema vostro non è importante che capiscano è importante che rispettino il confine che capiscano che di là non si passa la prima volta che vi incazzate seriamente vedete che lo capiscono ovviamente è faticoso però ristabilite i confini perché se non lo fate sarete frustrati e se sarete frustrati andete a fare tutti i casini che sappiamo di cui sopra questo tema anticipa oltre al discorso delle sfide nell'ambito della famiglia anticipa anche quello che poi è l'ultimo ambito il quinto ambito di sfida che non arriveremo a vedere prima della pausa estiva però riguarda il rapporto con le donne in generale con le altre donne diciamo al di fuori della famiglia dato che è il bravo bambino uno dei tratti è quello che ha è quello di voler compiacere le donne quindi anche su questo Giorgio ho portato l'esempio prima del rapporto tra marito e moglie nell'arginare nel mettere un confine appunto in quello all'ansia eccetera della moglie ma questo lo possiamo dare come possibile sfida già iniziare da subito a mettere i confini nei rapporti con le donne in generale soprattutto davanti a donne che tendono a invadere i nostri spazi tendono appunto come diceva Giorgio a non capire tendono a farci fare delle cose che noi non vogliamo fare iniziamo anche qua a mettere confini e dire di no esatto perché abbiamo messo le sfide con la famiglia prima delle sfide con le donne perché il problema è che se voi non affrontate queste sfide con i rapporti fondamentali e fondanti della personalità che sono le relazioni d'attaccamento primario ne pagheranno le conseguenze proprio le persone conquistate tutti gli altri cioè io ho conosciuto mi ricordo un ragazzo sposato con figli aveva avuto attrazione omosessuale lui tantissimo più che per non tanto e non solo perché non trovava la sua identità maschile e quindi guardava con invidia e ammirazione gli altri uomini erotizzandoli ma soprattutto per fuggire da una madre che cercava di controllarlo e di risucchiargli via la vita quindi il mondo femminile per lui era satana praticamente poi ha fatto un percorso personale ha incontrato questa ragazza dolcissima con cui si è sposato e ha fatto due figli ma siccome non aveva mai affrontato in profondità certe ferite era rimasto a un livello superficiale e soprattutto sulle ferite familiari non aveva mai potuto guardare a quel male che gli era stato fatto da sua madre qual era il risultato che quando sua moglie che ripeto sapeva la sua storia lo amava cioè non era un erinne ecco però era comunque una donna e come dire ogni tanto aveva la cosa di invaderlo o semplicemente di chiedergli una cosa non lo so gli chiedeva di non andare a fare la partita di calcetto cose stupide niente di grave ma era talmente tanta la frustrazione repressa nei confronti della madre che ad ogni richiesta della moglie anche legittima a un certo punto lui incapace di dire qualcosa cioè di affrontare il conflitto con la madre si sfogava in una maniera brutale e cattiva con la moglie e si rendeva conto di questo cioè che alla fine la cattiva era la moglie che in realtà era una persona normalissima quindi se non stabilite i confini giusti in famiglia se non rieducate quei rapporti là poi ne pagheranno le conseguenze anche le persone che in realtà non stanno facendo niente di male con voi ma con le quali è più facile scontrarsi anche per noi per esempio ti ricordi è uno dei ragazzi che proprio non voleva vedere il modo in cui i genitori ancora più di 40 anni lo trattavano come un bambino in casa davanti alla fidanzata no 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 lo fa lui lo fa lui perché perché lui è bravo perché lui sa che lo deve fare anche con un tono un po' sprezzante era una persona adulta con una carriera alle spalle con queste cose che ti demoliscono tantissimo nell'autostima quando abbiamo provato a farlo entrare in contatto con questo male che gli era stato fatto la furia omicida si è riversata su di noi cioè su di me in particolare perché non poteva riversarsi i suoi genitori chiariamoci non dovete uccidere i vostri genitori ok non è questo lo scopo però ristabilire i confini vedere queste cose qua fa sì che non ne paghino le conseguenze persone che non hanno niente a che fare con questo male si e si estende come diceva Giorgio a tutte quelle figure dove si è stabilito il nostro affetto primario nell'infanzia ma può valere anche nei rapporti con i fratelli con le sorelle mi viene in mente appunto un altro caso del ragazzo del bravo ragazzo di famiglia che tutti i fratelli le sorelle i cognati le cognate usavano per andare a prendere i nepotini ok allora vai tu a sbrigare questo vai tu a fare quello vai tu a fare quello gli altri avevano i loro cazzi sostanzialmente non poteva averli certo perché doveva stare sempre a sbrigare le cose di famiglia ok quindi anche su questo altra sfida diciamo concreta che non riguarda necessariamente solo il rapporto con i genitori ma anche con gli altri membri della famiglia e la scusa poi qual è? che tu non sei sposato quindi sei il servo della famiglia non è vero ne parlavamo con i ragazzi di Nuovo Orizzonti questo è un giochetto mentale esatto che ci viene fatto magari non consapevolmente non con l'intento necessariamente cattivo però è questa è manipolazione quindi mi fanno sentire in colpa così che io faccio quello che vogliono loro per compiacerli esatto esatto quindi andando avanti nelle sfide abbiamo detto impara a dire di no ristabilisci i confini sani un'altra cosa da fare sforzati di esprimere in maniera chiara quello che vuoi bellissimo questo ecco non stiamo parlando solo di conflitti ovviamente sì anche può succedere può succedere se si è chiari però stiamo parlando proprio di schiattare delle cose un po' in modo diretto in faccia schiaffare non schiattare vuol dire morire stiamo parlando di schiattare stiamo schiattando io in realtà in questo momento minchia ragazzi signore aiutaci ok no perché voi scusate parentesi voi non avete idea ma noi stiamo registrando da tipo tre ore abbiamo avuto qualche piccolo problema solo interruzioni tipo mancano parti completi di 40 minuti infatti se sentite Giorgio in parlare diciamo Giorgio parla tanto ormai lo conoscete ma anche da solo ma c'è stata una parte proprio in cui lui è completamente solo è perché abbia avuto qualche problema di collegamento esatto quindi va bene dicevi che bisogna schiaffare schiaffare un po' le cose in modo diretto che siano sentimenti che siano cose cioè di dirle chiaramente in modo netto senza giri di parole senza paura di ferire l'altra persona eccetera anche qua vale il discorso che abbiamo fatto prima il discorso delle oscillazioni poi della linea retta se io non l'ho mai fatto può essere che alle prime volte mi sembrerà strano può essere che mi verrà una cosa un po' brusca ecco non è quello lo scopo ma le prime volte ci può stare vedrai che lavorandoci mettendolo come sfida la seconda volta che lo farai sarai un po' meno brusco nel farlo fino a quando non arriverai più a essere brusco ma l'importante è che non arriverai a né nascondere quello che senti e soprattutto a dire quello che vuoi fare a dire quello che stai pensando in modo netto allora questo potrebbe aiutarvi come esercizio se dovete dire una cosa importante avete paura che non vi vengano le parole o di dirle male eccetera scrivetela prima cioè provate prima a mettere per iscritto quello che vorreste dire senza avere il pensiero di leggere quello che avete scritto alla persona inizialmente la prima versione diciamo la prima stesura deve essere nella totale libertà che cosa sento che cosa voglio che cosa direi se non avessi filtri così riordinate i pensieri tirate fuori le emozioni questo soprattutto nel caso dei conflitti evitate di farlo in maniera esplosiva se non avete la capacità di farlo perché non l'avete mai fatto può essere una buona fase intermedia per anche ordinare i vostri pensieri dopodiché provate a farlo invece a voce ripeto questo nei conflitti è particolarmente evidente anche la difficoltà ovviamente che uno può avere nell'affrontare un discorso ma banalmente provate a dire le cose chiare anche non soltanto nelle situazioni di conflitto ma anche nel film che volete andare a vedere o nella scelta sulla meta dove andare in vacanza cioè se non imparate a farlo nelle cose in cui non c'è in ballo niente di che figuratevi nelle cose in cui ci sono in ballo i conflitti perché a volte succede forse guys sarà capitato anche a te no quelle persone che cosa vuoi mangiare ma per me è uguale ma decidi tu cosa vuoi vedere ma è uguale ma vedi tu e ti giro un po' i coglioni ti sto chiedendo cosa vuoi dimmi cosa vuoi anche perché poi non è che tutto è uguale non è vero che tutto è uguale allora ti faccio un piatto di merda mangiatelo e dimmi che va bene e poi magari però ti lamenti perché poi siamo onesti va tutto bene e poi magari qualcuno sceglie qualcosa che non va e dice però certo io avrei fatto diversamente e fallo perché non l'hai fatto perché non l'hai detto esatto quindi dire le cose chiaramente come dice Giorgio questo è un metodo quello potrebbe essere un metodo quello di scrivere l'importante insomma anche senza questo metodo è di cominciare a mettersi delle sfide e a farlo concretamente poi un'altra cosa ribellati ai ricatti emotivi ho in mente una persona che ogni volta che litigava con suo marito lui tirava fuori vabbè se deve andare così vabbè tanto male che ci lasciamo perché lei era molto fragile molto insicura e quindi questa cosa la metteva sempre in una posizione di pericolo di paura di ansia e uccideva completamente la discussione qualsiasi discussione anche le discussioni legittime a parte che ogni discussione è legittima cioè non so come dire non possiamo decidere cosa provare e per cui se ci sono delle cose che ci hanno fastidio è sempre legittimo dire mi dà fastidio poi bisogna capire il perché allora magari mi dà fastidio per delle cose che sono mie che non hanno a che fare con te e quel fastidio me lo tengo però non c'è niente di male a dire quello che uno prova no? se però ogni volta che io dico una cosa che non ti piace tu mi tiri fuori ci lasciamo questo è un ricatto emotivo e no cioè infatti lei finalmente poi quando ha iniziato a fare una terapia l'ha capita questa cosa cioè si accorta di questo giochetto e gliel'ha detto tu non puoi minacciarmi che ci lasciamo ogni volta che noi discutiamo perché non è un modo adulto di affrontare una discussione io devo sapere che posso stare con te anche se non non va tutto bene o se non siamo sempre d'accordo se no che rapporto c'è oppure quelle cose questo è tipico dei genitori vabbè fai tu con il labbro tremolo gli occhi lucidi bene se questo è quello che vuoi esatto io sono tanto felice per te non ti preoccupare sono lacrime di gioia ecco queste cose sono ricatti emotivi questo è un ricatto emotivo esattamente no non dovete sottostare a queste cose incazzatevi incazzatevi piuttosto ma no perché non non ci si comporta i sensi di colpa se sentite i sensi di colpa c'è qualcosa che non va i sensi di colpa non vengono da Dio mai anche quando capiamo che stiamo facendo del male che abbiamo peccato eccetera dico anche in termini proprio di fede Dio non ci manda il senso di colpa ci dà consapevolezza del male ci può dare il dolore del male che abbiamo fatto ma il senso di colpa è una cosa diversa è una roba che ti distrugge che ti fa sentire una merda che ti fa che ti butta non ti aiuta a risalire non ti non punta sul bello che tu puoi fare che non hai fatto ma che puoi fare ti disintegra quindi quando qualcuno gioca ad attivarti i sensi di colpa veramente guardate anche involontariamente sarà successo anche a voi di farlo nei confronti degli altri è successo a me tante volte di farlo è un modo purtroppo di educare un certo modo di educare che andava tanto di moda da anni fa più forse per la nostra generazione non so per i più giovani da questo punto di vista sei un bambino cattivo invece no hai fatto una cosa cattiva ma non sei un bambino cattivo e puoi essere un adulto che fa cose brutte ma non che è brutto quando vi innescano i sensi di colpa c'è qualcosa che non va accendete i come dire gli allarmi e non non sottostate a questo cioè se fate una cosa buona dovete farla perché volete farla non perché altrimenti è andata all'inferno o che ne so metaforicamente parlando intendo dire poi siccome abbiamo detto che i bravi bambini hanno bisogno di riconoscimento un'altra cosa che si può fare per combattere questo atteggiamento e che costa tanta fatica ve lo dico già è fare qualcosa di buono in maniera assolutamente gratuita cosa significa in maniera gratuita significa che dovete farlo e nessuno deve sapere che l'avete fatto non so se ci stagga è una cosa su cui riflettevo assolutamente perché viene fuori quella gratuità e viene meno quel dare per ricevere gratificazione perché appunto si demolisce la possibilità di avere una gratificazione perché nessuno lo sa e quindi nessuno può darti quella gratificazione allenatevi scegliete di fare una cosa anche una cosa grossa e di non raccontarla a nessuno a nessuno guardate ve lo dico a me per esempio ci sono state delle circostanze in cui mi sono reso conto della meschinità del mio aspettarmi qualcuno che mi dicesse ah caspita che fai questa cosa e poi non vedere che arriva questo riconoscimento e dire ma come ma non ha visto quello che ho fatto ma io mi dico che ingratitudine no che magari è anche vero ci sono persone che effettivamente non si accorgono minimamente del bene che viene fatto loro però il punto è che se tu l'hai fatto per questo cioè se questo diventa così grande dispiacere di non avere riconoscimento diciamo così dico tutti proviamo piacere ad essere riconosciuti e non c'è niente di male in questo piacere ok Gesù lo dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere è vero quindi quella gioia c'è ma appunto la gioia è nel dare non nell'avere riconosciuto che tu sei stato bravo ad aver dato quindi se quel riconoscimento non arriva è un dolore però se questo arriva a rovinare la bellezza del fatto che l'altro ha ricevuto qualcosa di buono e sta meglio vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi provate a fare questo esercizio fate qualcosa di buono di gratuito di bello di grande e non ditelo a nessuno anche perché appunto e soprattutto in ambito di fede perché il signore vi vede nel segreto e nel segreto vi ricompenserà quindi chi deve guardare guarda a te Gai viene qualcos'altro in mente come sfide no no scusami mi stavo stando ridere quando chi deve guardare guarda perché Gesù vi guarda no perché dice sempre questa cosa scherzando sì vi guarda meglio di come vi guardate voi e ci guardiamo noi esatto e comunque pensate questo che più i bravi bambini dentro di noi si smorseranno più veramente potrete fare esperienza della bellezza di donare gratuitamente veramente si acquisisce libertà nel senso ok io e a Gaetano ci siamo presentati come bravi bambini recidivi va bene però insomma un po' di cammino l'abbiamo fatto alle spalle e penso che sia giusto anche riconoscere che sebbene queste parti si attivino l'abbiamo detto anche nella puntata scorsa il punto non è eliminare ogni cosa che non va di noi il punto è vederla riconoscerla farci conti in modo che non ci renda schiavi abbiamo sperimentato anche una certa libertà progressiva libertà anche da questo tipo di cosa ed è bello quando riesci a fare le cose senza pensare a cosa pensano gli altri quando ti prendi la libertà anche di scazzarti con un amico senza che questo significhi niente perché altrimenti tutto diventa un'angoscia al di là di tutto no? perché se tutto dipende dal riconoscimento degli altri ogni stupidaggine che accade acquista un valore incredibile e ti rallenta tantissimo in tutto quello che fai veramente non si vive più fidatevi anche del fatto che il conflitto che può far paura a chi ha paura di viverlo e quindi lo evita non è così brutto nel senso che non è così spiacevole no? perché si impara ad affrontarlo ci si impara a conoscere meglio nel conflitto generalmente si è più autentici quando ci si dicono le cose quindi comunque ci sono tanti aspetti buoni e con gli amici molto spesso se sono delle belle amicizie almeno a me succede con qualcuno no? poi di riuscire anche a ironizzarne il conflitto no? quindi di far centrare l'ironia perché non è che ci stiamo ammazzando e siamo entrati in conflitto per una qualche una diversità di idee che ne so qualsiasi cosa ma poi è bello perché almeno io con alcuni amici passo dal conflitto all'ironia molto facilmente e poi l'ironia smonta tutto diciamo e fa come dire ok non è successo niente e questo è quello che mi è successo e credetemi che è una sensazione molto bella esatto va bene siamo andati abbastanza lunghi ma questo è perché non solo perché Giorgio non ha la capacità di sintesi per una volta non è colpa mia esatto c'è stato qualche problema tecnico però dato che non avrete diciamo più puntate per per la pausa estiva e ci sta ecco ci siamo presi ci giustifichiamo così ecco no ma non è vero in realtà ci sarà un'altra puntata questa non è l'ultima ma che cazzo reazione natura ma che cazzo no ragazzi ci sarà un'altra puntata però siccome questo non mi metterà all'inizio secondo me questa cosa ci sarà non ci sarà un'altra puntata ma come che cazzo no comunque ci sarà un'altra puntata tranquilli non vi abbandoneremo non vi lasceremo orfani se tutto va bene forse ci sarà anche una mini puntata bonus su uno strumento in particolare da usare in questo periodo estivo in cui tutti si denudano e i corpi iniziano a risvegliarci come dire bassi istinti vi potremmo dare uno strumento per lavorare su questo e questo dovrebbe essere semplice probabilmente sarà una puntata gestita solo da me o da Gaetano ma ci sarà un'ultima puntata lo possiamo anticipare no vabbè non anticipiamo una puntata sorpresa diciamo che sarà bella esatto comunque concluderemo in bellezza in bellezza prima della prima della pausa estiva prima della pausa estiva però ecco a questa puntata ci tenevamo molto e forse per questo abbiamo avuto tutti questi problemi perché come sappiamo per chi crede insomma quando si cerca di fare qualcosa di importante l'inquilino nel piano di sotto viene sempre a dare fastidio no quindi di sconnessioni varie di sconnessioni cerebrali nostre stanchezza eccetera speriamo che i bravi bambini dentro di voi si siano sentiti capiti ascoltati e riconosciuti speriamo che abbiate capito che dovete volere bene a sti bambini che in realtà sono solo convinti di non poter essere amati per come sono senza essere perfetti e che questo invece è possibile un pezzetto alla volta un giorno alla volta permettetevi di non essere perfetti permettetevi di di non fare le cose ecco questa è la prima sfida che avevamo detto all'inizio no stiamo facendo una puntata che non siamo riusciti a preparare alla perfezione va bene lo stesso fate le cose anche se non sono perfette mettete punto se non arrivate a finire una cosa va bene anche questo perché comunque non avreste anche se al bravo bambino piace controllare tutto il controllo di tutto non ce l'avreste comunque questo ricordatevelo noi ci rivediamo vabbè vi rimandiamo sempre ai nostri social ormai li conoscete giorgio.scrittore instagram e facebook a2a2scrittoannumero.parlacichioccelagmail.com vi ricordiamo che questo progetto è sempre sostenuto da voi quindi ringraziamo tutti quelli che lo stanno facendo che ci stanno aiutando con le piccole donazioni che possono ecco vi mettiamo magari nel link in descrizione sia il libro di Macchiesini per chi vuole volesse comprarlo esatto e anche il sito del No More Mr. Nice Guy di cui abbiamo parlato per chi conosce bene l'inglese ok sì va bene buonanotte per noi e buona giornata per voi che iniziate e a presto ciao ragazzi ciao ciao a2a2 il podcast degli uomini liberi forse scoprirò quello che non so ti ricordo che questo podcast è interamente finanziato da te grazie a un crowdfunding di Provvidenza trovi il link in descrizione per sostenere queste e altre storie di speranza per chiunque possa avere bisogno di ascoltarlo io ti sento ma non puoi darmi problemi forse non vuoi più di dubbio adesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti